Stanno tutti bene i 27 scout pescaresi che si sono sentiti male mentre stavano partecipando a un campo estivo sulla Maiella nel territorio di Castiglione Messer Marino. I ragazzi tra gli 11 e i 15 anni sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino con l'intervento dell'Eli Soccorso e poi del 118. A dirlo il direttore aziendale 118 Chieti, Adamo Mancinelli, che abbiamo incontrato nella centrale operativa di Chieti e Pescara. Un'anguria andata male o l'acqua contaminata di una fontanella, comunque un'intossicazione ci dice il dottore. Allora i ragazzi stavano tutti bene, sono stati tutti dimessi nella giornata di ieri, io di sera, quindi sono stati inclusi nelle due pediatrie, o meglio prima pronto soccorso e poi le pediatrie gestite dai pediatri del pronto soccorso di Lanciano e quello di Vasto. Sono tutti a casa? Sono tutti a casa, nessun problema. Quanti anni hanno? Erano nell'età adolescenziale, quindi si parlava da 15 anni, abbiamo avuto dei bambini di 15, 16, 14 anni e anche 8 anni, 8-10 anni. Erano degli scout che erano lì a divertirsi, quindi a fare qualche stage che loro normalmente fanno. Il territorio di Castiglione Messermarino? Il territorio di Messermarino, quindi un'area dedicata proprio per, in cui avevano utilizzato, avevano fatto il campo e dedicato a fare questo tipo di evento. Loro già il giorno prima avevano avuto dei sintomi come ad esempio diarrea? Sicuramente è una tosse infezione alimentare, quindi acqua, il cocomero, qualcosa che hanno mangiato, sicuramente qualcosa che avevano portato loro, quindi non acquistato in quella zona, né tantomeno in ristoranti e altre zone. Quindi erano prodotti che loro avevano portati e probabilmente avevano avuto un po' un'evoluzione, quindi qualche tosse infezione di qualche batterio. E' intervenuto il 118 prima l'elisoccorso? Prima è intervenuto l'elisoccorso perché la centrale operativa è stata allertata per questo evento. È chiaro che abbiamo preferito, come spesso si fa in queste situazioni dove non si conosce bene la situazione, anche perché c'erano difficoltà di non solo raggiungere il posto, ma anche di comunicazioni radio e comunicazioni telefoniche, essendo una zona di montagna. Abbiamo preferito mandare l'elisoccorso che è il dottore, credo che sia Era Soldano, il prossimo direttore della centrale di Chieti Pescara, quindi un rianimatore. Ha gestito bene la situazione, ha fatto un ottimo triage e ci ha già descritto immediatamente la non gravità dell'evento, ma nel numero, grave forse nel numero. Poi è arrivata invece la nostra ambulanza, quella di Castiglione, con la dottoressa Sacco, che qui ha deciso poi il vero triage, cioè quindi si è resa conto di quanti ne erano. Quindi abbiamo utilizzato dei pulmini, abbiamo portati questi ragazzi, li abbiamo divisi nelle due pediatrie, quindi dicevo pronto soccorso di Lanciano e pronto soccorso di Vasto. I ragazzini, come detto, hanno accusato dei malori per i quali si sospetta una intossicazione mentre erano in montagna in prossimità del rifugio del cinghiale. Uno di loro, con il cellulare spostandosi in una zona in cui c'era il segnale telefonico, ha contattato il 118 che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, alertando il soccorso rapino e speleologico che è prontamente intervenuto per recuperare, soccorrere e trasportare i ragazzi nei vari ospedali della zona. Nel frattempo si attendono per domani i risultati delle analisi idriche effettuate dalla Sasi, mentre il parroco Don Cristiano al telefono ribadisce come fortunatamente tutti i ragazzi sono tornati a casa.